BAMBINI ROM Non ho fatto un fratellino e mi sommergono con le foto dell'infante ancora in ospedale. Il dodicesimo nato, in una famiglia ancora giovane. Ricchezza più grande della stessa difficoltà del vivere di ogni giorno, di raccimolare il cibo o una coperta per le fredde notti che si avvicinano. Negli occhi dei bambini rom mai vorrei vedere la paura del disprezzo, la tristezza del rifiuto, l'amarezza della discriminazione.